Ciao a tutti e a tutte, spero che la sorpresa vi sia piaciuta. Come ho già detto, per me sceglierà Ale una scelta di cuore e di stima. Mi dispiace che sinceramente molti di voi non vedano bene questa accoppiata, però posso assicurarvi che Vale siamo molto contenti di dare delle grandi soddisfazioni a tutti voi, soprattutto al salente della nostra terra e alle nostre famiglie. Quindi spero di sentirvi e di vedervi più uniti, sia per me che per lei, perché per entrambe le cose, insomma, mi dispiace leggere commenti negativi nei suoi confronti, così come nei miei, quindi unitevi e pensate a quante cose belle si possono fare insieme, perché il mio ne fa la forza, l'odio non porta a niente. Grazie a tutti e alla prossima!